La vittima è una donna di 46 anni, Paola Castellet. Non sono ancora certe le cause del ruogo, ma probabilmente il focolaio è scoppiato nei pressi delle luci dell'albero di Natale Venezia La tragedia si è consumata questa mattina, in una casa di Concordia Sagittaria, in zona Paludetto, nel veneziano Un incendio è divampato in una casa di via Cesare Battisti intorno alle 6 e 15 di oggi Una vittima, Paola Castellet. La donna di 46 anni è riuscita a mettere in salvo le sue due figlie I soccorritori giunti sul posto, hanno ritrovato il suo corpo, parzialmente carbonizzato Le fiamme avvolgono la casa.Secondo, quanto hanno ricostruito i giornali locali, l'inferno sarebbe divampato alle prime luci del mattino È stata proprio Paola Castellet, vittima dell'incendio, a rendersene conto. La donna ha immediatamente provveduto a portare fuori casa le sue figlie, la prima di circa 20 anni, la seconda più piccola, frequenta ancora le scuole medie Subito dopo aver messo in salvo le ragazze, la donna è tornata in casa. Lì, di nuovo tra le fiamme, è caduta accidentalmente ed è morta Sul motivo per cui la Castellacabbi ha deciso di tornare all'interno non è ancora chiaro Le ricostruzioni.Irle Gazzettino riporta le prime ricostruzioni di quanto sarebbe accaduto Sull'incendio stanno al momento indagando i carabinieri in collaborazione con il nucleo investigativo anti-incendio territoriale, NIAT Fare che il robo sia nato in cucina, e non si esclude la possibilità che a provocare le fiamme sia stato un cortocettito generato dalle luci dell'albero di Natale Le autorità sono giunte sul luogo della tragedia nella prima mattinata, insieme ai vigili del fuoco, che hanno mostrato le immagini di quanto accaduto sul profilo ufficiale di Twitter .